Buongiorno e ben trovati con l'informazione di TRMH24. In apertura parliamo subito di un appuntamento che vedrà impegnata la città dei Sassi. È tutto pronto per l'Assemblea di Confindustria di oggi pomeriggio. Illustri gli ospiti come i ministri Fitto e Pichetto, Fratine e il presidente del CONI Malagò. La sfida del cambiamento parte da Matera. Riflettori nazionali accesi a Matera per discutere di industria e potenzialità di sviluppo della Basilicata con l'Assemblea di Confindustria nella Sala Congressi dell'Una Hotels MH. Un'iniziativa per stimolare un dibattito sui principali temi economici distringenti attualità alla luce di un contesto caratterizzato da sfide complesse ma anche opportunità. Al dibattito parteciperanno illustri relatori come i ministri Fitto e Pichetto, Fratine, il presidente di Confindustria a Bonomi, il presidente del CONI e della Fondazione Milano Cortina 2026 Malagò. Tutti ospiti del padrone di casa, il presidente degli industriali lucani, Francesco Somma. Abbiamo tentato di lanciare una sfida. La sfida è quella di creare, di progettare traiettorie e realizzare traiettorie di sviluppo che consentano una crescita economica e sociale maggiore a questa regione e che consentano in particolare alle nuove generazioni di vivere e realizzarsi in Basilicata. Perché il vero rischio a cui la Basilicata si trova di fronte è lo spopolamento e la deindustrializzazione. Si parla da anni di tantissimi temi legati proprio alle carenze in regione come quelle infrastrutturali oppure a criticità come lo spopolamento. È arrivato secondo lei il momento di agire? È arrivato il momento di agire e credo che le classi dirigenti lucane debbano avere la consapevolezza che questo è il momento, forse ultimo momento, l'ultimo treno che passa. Vi sono risorse molto, molto, molto importanti che vanno in qualche modo non solo programmate ma poi vanno messe a terra e credo che la coesione interna tra le classi dirigenti e la coesione con le classi dirigenti anche nazionali possa essere il buon viatico perché ciò finalmente si realizzi. Chi fa impresa in Basilicata forse è un doppio talento, viste tutte le criticità che ruotano attorno. Io credo che chi fa impresa in Basilicata sia davvero un eroe, lo dico senza enfasi ma lo dico nel senso pieno della consapevolezza che questo sia. Io credo che gli imprenditori di Basilicata, le tante eccellenze che esistono in Basilicata nonostante le diseconomie di cui abbiamo parlato riescano davvero a raggiungere risultati importanti. L'appuntamento odierno sarà trasmesso in diretta su TRM Network a partire dalle 15.30. Torniamo a parlare adesso dei coniugi uccisi a Carovigno. Il killer ha sparato alla testa con un fucile da caccia. Sarebbe un fucile da caccia l'arma utilizzata per uccidere in casa Antonio Calò e la moglie Caterina Martucci i cui cadaveri sono stati scoperti il 1 marzo nel pomeriggio poco dopo le 18 dal fratello dell'uomo. Antonio giaceva sull'uscio mentre Caterina è stata trovata in camera da letto. Quest'ultima pare stringesse tra le mani il suo telefono cellulare, probabilmente nel tentativo di chiamare qualcuno. Entrambi, da una prima ispezione, sembrano essere stati colpiti da una fucilata al capo. In casa i carabinieri avrebbero repertato due cartucce. L'arma del delitto non è stata recuperata. Secondo una prima ricostruzione, il duplice omicidio risalirebbe a circa 24 ore prima il ritrovamento dei due cadaveri. In casa, infatti, i militari hanno trovato la tavola imbandita per la cena e una pentola sui fornelli. Le due vittime vivevano con la pensione sociale dell'uomo, pari a 480 euro. Spesso erano i vicini ad aiutarli economicamente o facendo la spesa. Gli inquirenti escludono possa essersi trattato di un tentativo di rapina finito nel sangue, sia perché in casa non c'erano segni di effrazione e l'appartamento non era a suo quadro, sia per le precarie condizioni economiche della coppia. Sappiamo, confermano i parenti, che Antonio questo mese non aveva ancora ritirato la pensione. La notte scorsa, dopo la scoperta dei cadaveri, gli investigatori hanno eseguito quattro perquisizioni per lo più a casa dei familiari delle due vittime e hanno ascoltato una decina di persone tra parenti e amici della coppia. Non sono stati eseguiti esami dello Stab. Adesso invece parliamo di un'indagine della FPCGL rispetto agli istituti di ricerca e fra questi anche il CROB di Dio Nero in Vultura in Basilicata. Il governo dimentica nuovamente i precari della ricerca sanitaria. Il mille proroghe 2023, appena convertito in legge, non prevede alcuna possibilità di stabilizzazione per il cosiddetto personale della piramide della ricerca. La FPCGL, mobilitata, fa sapere, per dare sostegno all'iniziativa Ricerchiamo Stabilmente, nel corso di questi ultimi anni, ha organizzato numerose iniziative di comunicazione e rivendicazione. Con l'intento di proseguire nell'importante azione, la FPCGL ha organizzato una raccolta dati fra il personale precario della ricerca. La risposta dei ricercatori coinvolti è stata straordinaria. Sono stati infatti circa 1300 i questionari compilati in pochissimi giorni a fronte di una potenziale platea di circa 1600 lavoratori. A partecipare è anche il personale in servizio al CROB di Dio Nero, unico istituto di ricerca lucano che sta scontando una grave emorragia di unità. Dopo anni di precariato, i ricercatori danno le dimissioni, anche per un contratto a tempo determinato alla ricerca di una stabilità lavorativa maggiore. Un dato dalla compilazione dei questionari nel mese di febbraio a oggi, il CROB ha perso un altro ricercatore. I numeri sono davvero allarmanti. Dei 19 ricercatori entrati in piramide in prima e seconda istanza sono andati via in questi anni ben 11 unità, ossia il 60% del personale storico. A Bari è stato inaugurato l'anno giudiziario del TAR Puglia, presentata la relazione annuale sulla giustizia amministrativa del 2022. L'inno di Mameli, suonato da un quartetto d'archi, è aperto nella sala udiense l'anno giudiziario del TAR Puglia. La cerimonia è stata anche il momento in cui è stato presentato il bilancio del 2022. Nello scorso anno, infatti, la richiesta di giustizia in regione ha raggiunto un totale di 1770 domande presentate. Le sentenze del Tribunale amministrativo regionale sono state 1848. Ben 397 sono il risultato di ricorsi nuovi, pari a circa il 27,1% del totale. Il saldo positivo tra ricorsi nuovi e quelli presentati nel 2021 ha determinato una riduzione delle giacenze del 12,6%. Sulla relazione del TAR Puglia è intervenuto il presidente Angelo Scafuri. L'andamento è stato senz'altro positivo dal punto di vista statistico, ma questo non ci accontenta, perché noi puntiamo a un servizio di qualità e di efficienza che però richiede in prima battuta la chiamata da parte del cittadino, perché il nostro è un processo ad impulso di parte e quindi se non c'è la richiesta di intervento non possiamo intervenire d'ufficio. Quello più gettonato rimane quello dell'edilizia e dell'urbanistica. Ovviamente poi altri campi di notevole complessità e portata sono quelli degli appalti, quelli dei concorsi. Diciamo che il pubblico, il giudice amministrativo interviene veramente in un'ampia gamma di settori. Parliamo invece adesso di un'inaugurazione che si è tenuta questa mattina ad Avigliano, quella della nuova stazione ferroviaria delle FAL. Sono durati meno di un anno i lavori di ristrutturazione della stazione FAL di Avigliano Città in provincia di Potenza, un'opera che ha reso la nuova fermata green grazie all'installazione di illuminazione al LED e altre misure per ridurre al minimo i consumi e l'impatto ambientale, smart, dotandola dei più moderni servizi agli utenti, ma soprattutto accessibile, con l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche e l'installazione di percorsi tattili per i povedenti e non vedenti. L'opera nel suo complesso è costata 437 mila euro. I lavori nel dettaglio sono consistiti nell'allungamento di 300 metri della banchina in corrispondenza del binario tronco, nell'innalzamento della banchina per facilitare l'accesso ai treni alle persone con disabilità motorie, nel risanamento e recupero della pensilina metallica esterna e copertura della banchina, nel rifacimento dei marciapiedi sui due lati dei binari e nella rivisitazione dell'organizzazione funzionale degli spazi interni. Inoltre sono state aggiunte le nuove biglietterie automatiche, oltre che una riqualificazione dei servizi igienici. Si è proceduto infine anche alla riorganizzazione funzionale degli spazi interni allo scopo di migliorare la fruizione dei servizi da parte di tutti gli utenti. Nell'inizio di un percorso con una visione che non si fermerà solamente qui all'inaugurazione, ma continuerà anche perché bisogna avere una visione per il futuro. La mamma dovrà riprendere vita non solo nella bellezza della sua architettura, nella funzionalità dei suoi spazi, ma anche nella attività, nella funzione specifica che esercita sul territorio. Abbiamo investito quasi 500 mila euro per adeguare la infrastruttura a quello che è il nostro standard ormai di stazioni. Noi ci siamo, come appunto recita lo slogan di oggi, e vogliamo continuare ad esserci perché riteniamo che la Basilicata sicuramente merita di più. Noi lavoriamo esattamente per questo, per favorire i cittadini lucani all'uso del trasporto pubblico locale. E adesso invece parliamo della chiusura in Fiera del Levante a Bari del doppio evento Bai Puglia e BTM buyers internazionali sono entusiasti, si sono detti entusiasti del turismo pugliese. La terza e ultima giornata della BTM nella Fiera del Levante di Bari coincide anche con la giornata Clou del Bai Puglia. Per tre giorni i buyers internazionali hanno visitato il territorio regionale per valutare nel dettaglio l'offerta turistica pugliese. Oggi la conclusione con gli incontri B2B che vedete alle mie spalle. La Puglia piace ai tour operator internazionali, anche dal Brasile grande consenso. Certo, assolutamente sì, i brasiliani amano la Puglia, soprattutto siamo un po' simili come clima, le temperature e poi i pugliesi come l'ospitalità. È più o meno simile a quello che siamo in Brasile, quindi piace tantissimo. Lei ha effettuato un tour in questi giorni in Puglia, che cosa l'ha colpita? Ero insieme a altri buyer, abbiamo fatto Ostuni, Albero Berli e Polignano al mare. Quello che mi ha colpito di più è stato proprio l'autenticità del prodotto, di quello che abbiamo vissuto, che ci hanno offerto delle esperienze con delle persone locali. Questo è il più bello. Un posto, se dovesse sceglierlo? Ostuni. Perché? Perché è una città molto semplice, bella e hanno dei localini molto belli. Bellissima. I brasiliani che cosa chiedono da un'esperienza turistica? Loro chiedono di vivere le esperienze con le persone locali e quindi ovviamente quello che offriamo noi come agenzia, come tour operator, offriamo le esperienze con delle persone locali, quelli che fanno il formaggio, il salami, l'olio, l'artigianato locale. Questo è molto valorizzato come mercato brasiliano. Buyer brasiliano è stato colpito da Ostuni. Che cosa dice? Ostuni colpirebbe chiunque, così come ogni angolo della Puglia, perché la grande potenzialità della nostra regione è quella che ha evidentemente messo sotto gli occhi di tutti le bellezze di alcune destinazioni più conosciute in Italia e nel mondo. Ma c'è ancora tanta Puglia che deve essere scoperta, tanta Puglia che deve essere raggiunta e noi quindi sulla base di queste considerazioni abbiamo un potenziale di crescita enorme. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e arrivederci.